E' ben ritrovati in diretta su HS24, sono Valeria in vostra compagnia, è un'ora dedicata alla bellezza e quindi iniziamola subito con Vita Yes, un brand made in Germany che offre delle soluzioni di bellezza immediate ma che allo stesso tempo ci garantiscono poi la durata nel tempo. Con me l'ambasciatrice del brand, Valentina Pietrelli, ben ritrovata Valentina. Ciao Valeria, grazie, buonasera a tutti. Allora Valentina, Vita Yes, un brand made in Germany, tante recensioni, tanti giornali ne parlano, anche giornali prestigiosi e parlano soprattutto di lui, dell'Instant Age Back, che è proprio il prodotto di punta e di maggiore successo. E' una crema da 7 ml che arriva in questa configurazione con le due bustine monodosi, che va a dare un effetto tensore, un effetto lifting immediato. Abbiamo una doppia possibilità, magari siamo al primo acquisto, vogliamo provare questo prodotto e approfittare anche della spedizione gratuita, allora potrete acquistare questo flacone più piccolo col codice 140914, oppure se già conoscete questo prodotto, appunto l'Instant Age Back, potrete acquistare il flacone più grande, sono 15 ml, quindi naturalmente il doppio della durata, però di questo naturalmente ne state acquistando maggiori quantitativi, quindi ne abbiamo meno disponibilità. Costa 54,99, 140915 è il suo codice. Come vi dicevo, ne parlano soprattutto i giornali, perché comunque è un prodotto che dà dei risultati eccezionali. Prodotto innovativo dell'anno 2019-2020, sì, è un prodotto appunto innovativo, l'azienda Vita Yes, un brand tedesco, è l'unica al mondo ad essere riuscita a stabilizzare in questo gel, quasi in colore e in odore, il 10% di argirelina, e quindi ne parlano i giornali di tendenza e anche del settore, proprio per questo, perché all'interno di un gel quasi in colore e in odore è stato stabilizzato questo peptide, composto da 6 amminoacidi, che è appunto l'argirelina, che dà due effetti, un effetto immediato e un effetto curativo a lungo termine. Effetto immediato, effetto lifting in 5 minuti, riduce all'istante rughe, borse, cicatrici, occhiaie, con un effetto lifting immediato, fino all'85% di rughe in meno, subito una formula innovativa con il 10% di argirelina, riduce permanentemente le rughe fino al 32% in 30 giorni. E appunto questi sono i due effetti. E guardiamo i risultati straordinari, Valentina. Questa è l'applicazione dopo qualche minuto, perché l'argirelina, che è la responsabile dell'azione distensiva della pelle, insieme ai minerali contenuti all'interno di Instant Edgeback, che hanno questo effetto tensore. Guarda qui, questa è una cicatrice, per farti vedere che agisce sia sulle rughe e borse occhiaie, ma anche sulle cicatrici, pori dilatati, esiti cicatriziali. E soprattutto, essendo in colore, può essere utilizzata tranquillamente anche dagli uomini, per ridurre un inestetismo che dà particolarmente fastidio. Questo uomo ha esiti cicatriziali dell'acne e, come vedi, in pochi minuti riesce ad ottenere un risultato fino all'85% in meno. E questo è certificato dall'Istituto Dermatologico Indipendente Tedesco, Dermatest, con una certificazione a 5 stelle. In più, questo è l'effetto, diciamo, immediato, lifting in 5 minuti. Come vedi, anche questa signora ha rughe, borse e occhiaie completamente liftate, possiamo dire. Sembra che abbia fatto un lifting. Un lifting. Allora, io vi voglio fare vedere intanto come si presenta questo prodotto e quanto ne servirà per entrambi gli occhi. Vedete, veramente è un chicco di riso. Non esagerate troppo col quantitativo, perché sarebbe uno spreco e piuttosto che dare l'esito sperato, magari non dà neanche il risultato immaginato. Noi, infatti, bisogna applicare un chicco di riso direttamente sull'inestetismo, sulla pelle pulita ed idratata. E questo chicco di riso, una volta prelevato, va attivato tra i due polpastrelli e va istantaneamente picchiettato sul nostro inestetismo. Allora, vediamo Giuliana, perché voi lo sapete che qui su HS24 quello che diciamo noi ve lo mostriamo in diretta. Quindi in questo caso Giuliana lo sta applicando soltanto sull'occhio sinistro e vedremo appunto come in poco tempo avremo un effetto incredibile. Un effetto che dura quante ore, Valentina? Dalle 8 alle 14 ore, a seconda dell'età e del tipo di pelle. L'importante è, ecco, come sta facendo Giuliana, a tendere. In questo caso noi ci sventoliamo per accelerare l'asciugatura per i tempi televisivi. I tempi televisivi sono più stretti, certo. Ma tanto inizia ad asciugarsi subito, perché a contatto con l'aria questi minerali fanno l'effetto tensore e vanno a distendere quel nostro inestetismo che viene già, diciamo, disteso dall'argirelina. Bisogna mantenere un'espressione neutra per i primi minuti, ma già vedi i risultati dopo pochi secondi. È già visibile. È molto evidente e mantenendo questa espressione neutra la crema continua a asciugare e appunto ha un effetto dalle 8 alle 14 ore. Cioè, guardate come in pochissimo tempo tutte le grinze, tutte le roghette e la borsa sotto l'occhio è stata completamente spianata e quindi chiaramente ha un occhio più riposato, più aperto, più luminoso, più giovane, Valentina. E poi questo gel quasi in colore intanto si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di incarnato e poi ha un effetto camuflaggio sul colore bluastro delle occhiaie. Quindi l'occhio di Giuliano, come possiamo vedere, sembra proprio riposato, disteso, liftato quando applicato semplicemente Instant Age Back. Ok, allora Giuliana, non serve più sventolare il ventaglio così se tu rimani ferma, le amiche a casa e gli amici, uomini a casa, perché anche gli uomini lo utilizzano, vedranno il risultato eccezionale. Ha ottenuto qui in pochi secondi. Allora, abbiamo detto un 85% di riduzione delle rughe immediata, ma prima abbiamo letto che in 30 giorni si ha una riduzione permanente delle rughe di quanto, Valentina? Fino al 32%, quindi possiamo ridurre il nostro anestetismo fino ad un terzo quasi. E questo è stato certificato anche da uno studio clinico in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, per esempio per cicatrici dovute all'asfortazione di nei o dei lipomi o cheloidi. Applicando Instant Age Back per almeno 30 giorni sull'inestetismo si ha una riduzione fino a quasi un terzo. Quindi questo prodotto non è il classico prodotto che dà l'effetto lifting che tu hai al momento e poi detergi il viso e non hai fatto nulla. È un prodotto che comunque continua a lavorare. Oggi hai la possibilità di fare una differente scelta. Magari vuoi fare il tuo primo acquisto, allora acquisterai il flacone da 7 ml con le due monodosi a 34,99 anziché 39,99 con il codice 140914. Se invece già conosci l'Instant Age Back che, ripeto, è il prodotto di punta di vita Yes, è il prodotto di cui parlano i magazine più famosi, qui hai il flacone da 15 ml, e quindi il doppio del quantitativo con il prezzo di 54,99 euro e il codice 140915. Ma vi devo avvisare, di questo abbiamo meno disponibilità perché chiaramente è anche il formato più conveniente e quindi le amiche ne approfittano. Ora, andiamo a rivederne le caratteristiche, Valentina. Allora, all'interno di Instant Age Back è stata bloccata l'argirellina, che è un peptide composto da 6 aminoacidi. È una crema antirughe ad effetto immediato, riduce le rughe profonde, borse e cicatrici. Fino all'85% effetto immediato. Fino al 32% effetto curativo a lungo termine con l'applicazione della crema per almeno un mese. Quindi un doppio effetto. In più, come stiamo vedendo anche dalle foto, può essere utilizzato sia dagli uomini che dalle donne perché è un gel in colore e in odore e a distanza di pochi minuti si ha un effetto lifting immediato. Proprio borse, rughe, occhiaie vengono liftate e nel lungo termine, quindi a 30 giorni, si ha un effetto curativo di riduzione fino al 32%. E questi sono i premi? Sì, è stato eletto prodotto innovativo dell'anno 2019 e 2020. Allora, Valentina, le amiche ne stanno approfittando e sicuramente anche qualche uomo ci starà chiamando perché il problema delle borse non è solamente delle donne. Guardate, l'abbiamo fatto in diretta adesso, in pochi secondi. Giuliana l'ha steso sull'occhio sinistro e guardate come cambiate il suo sguardo rispetto al dopo. Ma noi lo potremo utilizzare non solo sugli occhi, ma anche su altre rughe del viso, su cicatrici dell'acne. Quindi saremo noi ovviamente ad applicarlo sul nostro inestetismo. Ricordate che con HS24 avrete 30 giorni di diritto di recesso, quindi 30 giorni per poter valutare il prodotto. Se non siete soddisfatti, verrete rimborsati. Allora, ti devo fare delle domande sulla durata. Sì, infatti. Ipotizziamo la durata però solo sullo sguardo, solo sugli occhi, perché chiaramente poi è difficile stabilire una durata. Il 15 ml quante utilizzi? Allora, il 15 ml applicando un chicco di riso, diciamo, intorno agli occhi, sicuramente almeno 60 giorni. Il doppio di quello da 7 ml che dura un mese. Sì, oppure 60 occasioni speciali. Sì, 60 giornate, 60 serate, 60 eventi. 60 giornate in cui noi ci guardiamo allo specchio, vogliamo veramente andare a stendere il nostro sguardo e vogliamo vederci più belle, perché poi se ci vediamo più belle siamo diverse. Anche con noi stessi. Esatto. E anche con gli altri. Sì, sicuramente. Allora, vediamo un po' di risultati, Valentina. Parlano da soli, guarda, questa signora, che poi si può applicare, è vero sulle borse, rughe occhiaie, rughe perioculari, diciamo le famose zampe di gallina, ma anche sul codice a barre qui sopra il labbro. Per esempio, vedi, lei aveva anche una borsa molto scura, invece con l'effetto camouflage che fa questa crema, il contorno occhi sembra disteso, è più disteso, rilassato e con un effetto che va dalle 8 alle 14 ore. Poi, se si dovesse, se dovesse terminare l'effetto, comunque possiamo tranquillamente lavare la zona e riapplicarlo. Sì, sicuramente. Guarda questa immagine. La signora aveva proprio la pelle del viso devastata da delle rughe molto profonde. Sembra una ragnatela quasi. Questo è l'effetto dopo 5-10 minuti. Poi, applicandolo per almeno 30 giorni, ha anche un effetto curativo. Magari la signora si ritroverà con un viso con le rughe, non dico scomparse, ma sicuramente attenuate, ridotte fino al 30%. Eh, ma questa è una cosa non da poco, Valentina. Per esempio, guardate anche questa donna giovane. C'è una cicatrice sulla fine dell'occhio, proprio sulla zona perioculare, non ha più nulla. Perché instant age back si può applicare sulle borse, rughe, occhiaie, cicatrici, esiti cicatriziali dell'acne, ma su qualsiasi tipo di cicatrice e su qualsiasi tipo di inestetismo che ci dà particolarmente fastidio. Anche questa signora, non più tanto giovane, non ha più le rughe né sotto l'occhio né sulla guancia. Vedi, gli è rimasta solo questa parte qui sotto che è quella, purtroppo, sono altre cose. Beh, quello è un cedimento della pelle, chiaramente. È naturale. Allora, io vi invito a provare, a scoprire il prodotto più acquistato del brand Vita Yes, perché ne parlano i giornali, perché HS24 vi dà 30 giorni di diritto di recesso per essere appunto rimborsati, nel caso in cui non siete soddisfatti, e perché ve l'abbiamo mostrato in diretta. L'abbiamo visto su Giuliana, sull'occhio sinistro. Ora chiede a Giuliana di applicarlo anche sull'altro occhio, così tornerà a casa con questo sguardo bello riposato e luminoso e perfettamente disteso. Ne basta poco, vero Valentina? Ne basta un chicco di riso da scaldare, da attivare tra i due polpastrelli. Dopodiché si procede all'applicazione sulla pelle pulita ed idratata, picchiettando come sta facendo Giuliana, cercando di non ripassare sullo stesso punto, perché il troppo prodotto non aumenta l'effetto, ma crea un effetto polverina bianca, quindi è come se annullasse l'effetto, e quindi bisogna poi lavare la zona e procedere di nuovo con l'applicazione. Lei adesso si sventola sempre per i tempi televisivi, ma anche se noi andiamo di fretta possiamo aiutare l'asciugatura sventolando, ma tanto già da subito inizia l'effetto tensore, l'argirelina distende la pelle, i minerali naturali hanno questo effetto lifting e lo sguardo di Giuliana risulta tornato indietro, come dice il nome della crema. Ma guarda, già si vede, già si vede. Di molti anni, più giovane, più riposata, uno sguardo più disteso, più aperto. Più sicura di sé, si vede più bella, insomma ha tolto veramente magari la stanchezza dovuta a una brutta nottata. E ricordate che utilizzandolo per 30 giorni avrete una riduzione permanente delle rughe fino al 30%, quindi non è quel prodotto blando che ti dà l'effetto lifting e poi tutto torna come prima. L'argirelina lavora in profondità. Allora, questo è il flacone più grande per 60 utilizzi, utilizzandolo solo sul contorno occhi, 54,99, il prezzo scontato col codice 140915. Per le amiche che fossero in coda al call center non perdete la priorità acquisita, perché di questo flacone ne abbiamo meno disponibilità. Se desideri fare un primo acquisto e anche in quel caso avrai anche la spedizione gratuita, c'è il flacone da 7 ml, quindi 30 utilizzi, con le due bustine monodosi, 34,99 euro il prezzo scontato, codice 140914. Vi ricordo che avete sempre a vostra disposizione il nostro sito www.hs24.it e in primo piano trovate le offerte più importanti, tra queste naturalmente l'offerta della settimana di Shani, un prodotto unico sul mercato che troverete solo qui su HS24. È un coprimaterasso che in questa versione arriva anche con il lenzuolo da poter unire adesso con le comode clip. Rimane solamente la versione matrimoniale perché le altre misure sono andate sold out. I colori ci sono ancora tutti, l'arancione, l'avorio, l'azzurro, il bianco e il rosa e noi con 29,99 euro assicuriamo a noi stessi, al nostro materasso, l'igiene assoluta perché poi lo potremo tranquillamente igienizzare in lavatrice e in più sarà come dormire come su una nuvola. Ma continuiamo con Vita Yes e con una beauty routine che parte da un siero. Qui abbiamo un siero con la vitamina C ed acido dialuronico, sono 30 ml ed è un siero che come vedete è conservato all'interno di un flacone di vetro scuro proprio per andarne a preservare le sue caratteristiche. Questo è un prodotto che amo particolarmente Valentina. È un siero con una vitamina C altamente concentrata e stabilizzata che supporta il potere rigenerante dell'acido dialuronico. L'utilizzo quotidiano di questo siero aiuta la nostra pelle nella sua rigenerazione andando a stimolare la produzione di collagene. È un fluido vellutato, una texture leggera, una profumazione delicata che va applicato in gocce su una pelle pulita ed idratata e si dovrebbe applicare, è consigliato perché aumenta il potere della crema giorno e della crema notte, quindi deve essere utilizzato prima della crema giorno e della crema notte. Mattina e sera? Mattina e sera perché va ad aiutare l'attività, ad aumentare, a potenziare l'attività che svolgono le creme che utilizziamo nella nostra beauty routine. La vitamina C è contenuta al 10%, l'acido dialuronico l'1%. La vitamina C oltre a svolgere un'azione antiossidante ha anche un'azione antimacchia. Infatti è indicata sul viso, collo, decoltè ma anche sul dorso delle mani come stiamo facendo noi, perché le mani sono comunque un punto delicato dove comunque tendono a macchiarsi e sono delicate. La pelle è sottilissima e aiuta contro la formazione di macchie. Riduce quindi rughe e macchie della cute, protegge dai radicali liberi e dallo stress ossidativo, stimola la produzione di collagene, aumenta l'elasticità e migliora le difese, ridona luminosità e rende il colorito omogeneo. Stimola proprio la produzione di collagene in quanto è un fluido, una texture vellutata che penetra in profondità e va a stimolare la produzione di collagene che sorregge, quindi che rimpolpa la struttura che sorregge la nostra pelle. Allora, ha una texture meravigliosa tra l'altro questo siero, oltre che la profumazione. Sapete, a me è capitato di utilizzare sieri simili e vi devo dire che lasciano la pelle un po' appiccicosa in alcuni casi, ma in questo caso non avviene perché si fonde completamente sulla nostra pelle, la lascia setosa, morbida, asciutta, altamente idratata. L'idratazione viene spesso sottovalutata, ma in realtà è la cosa più importante da fare per evitare la comparsa di nuove rughe. Sì, perché una pelle disidratata è più soggetta alla formazione di rughe e soprattutto ai disegni del tempo, ma anche una protezione ci serve contro la formazione di macchie dovute ai raggi solari. E sulle mani questo avviene di più rispetto che magari al viso con le décolleté. Certo. Allora, mi raccomando, mattina e sera, sul viso deterso, prima della crema giorno e prima della crema notte. Vitamina C e acido ialuronico da 30 ml conservato all'interno del vetro. Questo vi testimonia anche e vi garantisce l'alta qualità del prodotto di cui stiamo parlando. Costa 32,99 euro. Quindi anche in questo caso, se desideri fare un primo acquisto, se desideri scoprire Vita Yes attraverso questo prodotto, ricorda che sul primo ordine hai anche la spedizione gratuita, quindi il corriere è a nostro carico. In più, hai 30 giorni per poterlo valutare. E questo, soprattutto quando si parla di skin care, Valentina, a me piace molto, perché se noi andiamo in una profumeria, acquistiamo qualcosa alla cieca, spesso non ci danno neanche i campioncini. E se poi non ti sei trovata bene, hai buttato i soldi. Hai buttato i soldi, mentre con HS24, se non ti trovi bene, potrai comunque essere rimborsata. Quindi chiama adesso per approfittare del prezzo scontato. In questo caso, appunto, lo porteremo a casa tua nel giro di pochissimo tempo. Avrai sempre 30 giorni per poterlo valutare. 1-4-0-9-1-9 è il codice da comunicare ai nostri assistenti allo shopping, o chiamando il call center, oppure acquistando anche dal sito www.hs24.it. E all'interno troverete naturalmente tutto l'assortimento di Vita Yes. Ma il prodotto di punta del brand, quello più amato, quello che veramente dà dei risultati immediati, è l'Instant Age Back. Questa è la crema da 7 ml, con le due bustine monodosi, anche magari da portare con in viaggio, che costa 34,99, codice 1-4-0-9-1-4. E adesso parliamo della crema da giorno. Questa è la crema viso da 50 ml, che all'interno ha anche una protezione solare 15, cosa che mi piace tanto, perché anche quando piove, anche in inverno, e anche quando ci sono le nuvole, c'è il sole. Sì, perché i raggi solari penetrano la coltre di nuvole, quindi bisogna proteggersi. E in questo caso, all'interno della crema Vita Yes Anti-Age Idratante, c'è un fattore di protezione 15, che ci aiuta quindi a proteggere la nostra pelle durante il giorno, non solo dai raggi solari con appunto il fattore di protezione 15, ma anche ha un effetto antiparticolato, quindi ci protegge dallo smog e dagli agenti inquinanti. All'interno è contenuto il Glicoin Natural, che è un principio attivo naturale al 100%, stimolante cellulare per la pelle stanca e stressata. Quindi penetra in profondità e va a stimolare la produzione di collagene, che aiuta a rimpolpare, a ridensificare i nostri tessuti, la nostra pelle. Inoltre ha una texture, vedi, molto cremosa, compatta. È compatissima, è molto fondente. Sì, però è ad assorbimento rapido, lascia la nostra pelle immediatamente idratata e asciutta e va bene quindi sia per noi donne, perché possiamo applicare immediatamente il make-up, ma anche per gli uomini, perché se vogliono idratare la loro pelle, perché non possono farlo con una crema quasi in odore o comunque con una profumazione molto delicata e con una crema che si assorbe rapidamente. Soprattutto ne basta pochissima per idratare la nostra pelle in profondità, andando a stimolare la produzione di collagene appunto attraverso anche questo Glicoin Natural, che è un principio attivo naturale al 100%, stimolante cellulare per la pelle stanca e stressata. Ci protegge quindi dall'inquinamento ambientale anche con un effetto antiparticolato. Oggi risparmiamo 11 euro sul prezzo HS24, quindi da 49,99 ne spendiamo solo 38,99. È una cura idratante per la nostra pelle, fornisce 24 ore di idratazione, protegge da raggi solari con il fattore di protezione 15, ci protegge dall'inquinamento ambientale con l'effetto antiparticolato, aumenta l'elasticità della cute, i risultati sono visibili su rughe e altri segni del tempo quasi immediatamente, perché i potenti principi attivi con l'aggiunta di soluzioni peptidiche penetrano in profondità nella pelle, andando a stimolare la produzione di collagene, che sorregge la struttura della nostra pelle. Eh beh, lo sappiamo quanto è importante il collagene, ne abbiamo meno di 100 disponibilità in questo momento. Per coloro che magari hanno già acquistato il siero, quello con la vitamina C e l'acido ialuronico, perché non aggiungere questa crema a giorno? Guardate, la texture è meravigliosa, perché da una texture così ricca temi talvolta che possa essere troppo pesante, invece no, la mano è rimasta morbida, setosa, ma soprattutto asciutta, quindi comunque possiamo truccarci, però è altamente idratata, quindi sappiamo che l'idratazione è fondamentale per prevenire la comparsa di nuove rughe. Poi noi abbiamo applicato anche il siero sotto, quindi abbiamo una doppiazione. Guarda, una mano che è meravigliosa, Valentina. Sì, sì, morbida, asciutta nello stesso tempo, idratata in profondità, e sì, anche una sorta di illuminante, quindi la pelle risulta idratata sin da subito, sia perché abbiamo applicato il siero, ma perché questa crema si asciuga rapidamente, idrata in profondità, tonifica la nostra pelle, la rende luminosa e idratata, aiuta quindi a combattere i segni del tempo. Allora, si è formata nuovamente un pochino di coda al call center, sapete che l'attesa è gratuita, non perdete la priorità acquisita perché ne abbiamo meno di 100, in questo caso della crema giorno, per tutti coloro che magari fossero liti tubanti e non sanno se acquistarla o meno, beh, è il caso di prendere adesso una decisione perché ne rimangono pochissime, costa 38 euro e 99 centesimi e con HS24 avete 30 giorni per poter cambiare idea, 1-4-0-9-1-6 è il codice. Vi voglio ricordare anche l'instant age back, state chiamando in tantissimi per acquistare il prodotto di punta, anche perché abbiamo un lifting ad effetto immediato non solo sulla zona del contorno occhi, ma su tutte quelle che saranno appunto i nostri inestetismi sul viso. Questo formato è quello maggiormente acquistato, codice 1-4-0-9-1-5. E andiamo a completare la nostra beauty routine con la crema notte, quindi abbiamo visto che con la crema giorno ci andiamo a proteggere dagli agenti esterni e dal sole, con la crema notte andiamo ad idratare, a rigenerare intensamente. Ne abbiamo meno di 80 disponibilità, anche qui risparmiamo 11 euro sul prezzo di partenza e come vedete la texture è diversa. La texture è diversa, è più corposa, più ricca, però ti stupirà perché comunque si assorbe immediatamente, ne basta pochissima, idrata in profondità e va a stimolare la produzione di collagene proprio di notte, perché come abbiamo detto durante il giorno proteggiamo la nostra pelle e la idratiamo, durante la notte dobbiamo restituire alla nostra pelle tutto quello che è andato perso durante il giorno, quindi una crema incredibilmente ricca, una texture comunque morbida, una profumazione leggera, va a idratare in profondità la nostra pelle ma soprattutto anche con questa crema ne basta pochissima, si assorbe immediatamente all'interno. È contenuto il Repair Complex CLR che, passami qualche termine, è un lisato di bifido batteri di derivazione biotecnologica, praticamente sono un complesso di fermenti naturali che supportano l'idratazione e la rigenerazione naturale della nostra pelle, in più sempre all'interno, vedi è già asciutta, l'estratto idrosalino di salicornia, che è una pianta che è responsabile dello stoccaggio dell'acqua attraverso la nostra epidermide, quindi mantiene idratata la nostra pelle durante tutto l'arco della notte. Quindi è una crema idratante rigenerante anti-age, stimola il meccanismo naturale di riparazione del DNA dopo l'esposizione ai raggi solari, ha un'azione idratante mediata e prolungata, mantiene energica e vitale la cute, rafforza il meccanismo di protezione per una pelle più liscia sin dal primo utilizzo. e lo puoi verificare subito sulla nostra mano che la pelle è veramente molto lissa e morbida. Io vi invito naturalmente ad approfittare del risparmio del 22% anche per scoprire Vita Yes, che è un brand di skin care 100% made in Germany. Come appunto vedete abbiamo due differenti cremi, la crema giorno e la crema notte, perché di giorno proteggiamo il nostro viso, di notte andiamo a riparare il nostro viso. Quindi io trovo che sia assolutamente irrinunciabile una crema notte, proprio perché è il momento più prezioso per noi per prenderci cura del nostro corpo. Sì, perché il corpo si distende, la nostra pelle è più rilassata e assorbe meglio, penetrano meglio tutti i principi attivi che sono contenuti all'interno della crema, perché durante il giorno i risultati con una crema a giorno li vedi immediatamente, con la crema notte i risultati li vediamo il giorno successivo. Quando ci svegliamo, certo, con un colorito più vivo, con le borse... La ruga si è spianata... Sì, la ruga si è distesa, le nostre borse occhiaie magari sono anche più sgonfie. A quel punto puoi dire, ha usato una crema notte insieme al siero, prima della crema notte, che mi aiuta a risvegliarmi con un colorito più sano, con le rughe distese e ad affrontare meglio la mia giornata. Assolutamente, allora sono le ultime disponibilità, quindi chiamate adesso il nostro call center, poi valutate tutto a casa 30 giorni. Valentina, intanto io ti ringrazio per essere stata con noi, grazie per i tuoi consigli e la tua competenza. Vi ricordo naturalmente che acquistare su HS24 è semplice, basterà chiamare il nostro call center al numero verde in sovraimpressione oppure andare sul nostro sito hs24.it. 38 euro e 99 centesimi, è il prezzo che oggi mi consente di risparmiare 11 euro sulla crema notte, codice 140917. Tra i tanti prodotti di bellezza c'è anche questo specchio a led luminoso, smart touch, quindi si accende la luce a led semplicemente sfiorandolo, ruotabile a 180 gradi con un vano appunto che mi consente anche di inserire qualche oggettino all'interno, a soli 17 euro e 99 centesimi, codice 140173. Se avete desideri oppure voglia di conoscere il nostro canale più rapidamente c'è sempre il nostro sito hs24.it.